Ciao amici, oggi vi parlo di un posto che probabilmente conoscete tutti che è Mont Saint-Michel. Magari non tutti sanno che questo posto che si trova in Francia ha un cugino che si trova sulla sponda britannica ed è Mont Saint Michael. Entrambi hanno la stessa particolarità e la stessa magia. Possono essere sia un'isola che una semplice collina o penisola in base all'alta e bassa marea. Noi abbiamo avuto la fortuna di visitare tutti e due i luoghi e sono magici veramente tutte e due. Se vi capita fatemi un salto, è bellissimo. Ciao, a domani!